Rossini News continua a portarvi alla scoperta del nuovo dipartimento materno infantile dell'ospedale San Salvatore di Pesaro. In precedenza vi abbiamo documentato la riapertura del punto nascite dell'ospedale pesarese, ripristinato a pieni giri da quattro mesi. Dipartimento che però contempla un altro settore molto importante, quello del reparto pediatria, con tutti i suoi servizi, compreso quello ripristinato di pronto soccorso pediatrico, un reparto che andiamo a scoprire grazie al supporto del primario Lorenzo Tartagni. Non avere un reparto di pediatria in una città come Pesaro poteva rappresentare forse un'anomalia, un'anomalia che è chiaro che era stata determinata da circostanze che non potevano essere gestite in maniera diversa, perché con l'emergenza Covid negli anni scorsi effettivamente questi spazi erano indispensabili per accogliere i pazienti che erano affetti da patologie polmonari o altre patologie Covid e per cui per forza di cose c'era stato un raggruppamento dei due reparti presso la pediatria di Fano. Ora per fortuna l'emergenza Covid è finita e quindi ci siamo un po' in un certo senso riappropriati degli spazi che erano effettivamente già presenti e che abbiamo un po' rinnovato e resi nuovamente a misura di bambino. La situazione adesso dal punto di vista strutturale qui a Pesaro è senz'altro buona perché abbiamo una quantità di spazi, abbiamo delle zone dedicate ad ogni attività e soprattutto abbiamo anche la possibilità di avere una serie di locali adibiti ad ambulatori, ambulatori che adesso quest'anno hanno ripreso la loro attività e che costituiscono anche un aiuto, un'aiuto e un'integrazione a quello che è il territorio. Gli ambulatori sono l'ambulatorio di endocrinologia per quanto riguarda le problematiche della crescita, di gastroenterologia per tutto quello che riguarda le problematiche alimentari e anche di allergie alimentari dei bambini. L'ambulatorio nefrologico per quanto riguarda tutte le problematiche renali, l'ambulatorio neonatologico per vedere e poter ricontrollare i bambini che escono dai nostri nidi. Oltre a questo abbiamo anche un'attività di tipo ecografico che costituisce un po' un'ulteriore integrazione a quella che è la nostra attività clinica e anche questo di supporto al territorio come per esempio l'ecografia delle anche che devono fare tutti i bambini. Naturalmente tutto questo è un qualche cosa che adesso noi stiamo cercando di portare avanti con le nostre risorse, con quello che è il nostro personale che in questo momento è sufficiente a coprire le attività di tipo ambulatoriale e le attività di reparto. Ovviamente se ci fosse qualcuno in più saremmo anche più contenti in modo da riuscire ad avere una maggiore tranquillità nei turni in quanto effettivamente il personale pur di garantire in maniera devo dire veramente incomiabile tutte le attività che stiamo svolgendo a cominciare naturalmente dal pronto soccorso pediatrico quindi tutte le attività di emergenza urgenza, la sala parto quindi tutto quello che è l'assistenza ai neonati è comunque veramente attivo nel cercare di portare avanti tutto quello che può servire effettivamente ai bambini di Pesaro e della nostra provincia in generale.